Nel nostro approfondimento di oggi ospitiamo il sindaco di Ardenno Laura Bonati. Il 25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne è passato, ma evidentemente non è passata l'attualità per parlare di questi temi che restano anche nel vissuto e nel tessuto sociale del nostro territorio che non è immune. Il comune di Ardenno su questo fronte è stato il primo in provincia di Sondrio ad adottare una carta delle donne votata all'unanimità dal Consiglio Comunale. Di cosa si tratta sindaco? Si tratta di una carta che è stata proposta dagli stati generali delle donne che è un'associazione di donne, un organismo di donne che si occupa di queste tematiche relative alla parità e anche al rispetto per la diversità di genere. Quindi è una carta che promuove la presenza delle donne nella vita pubblica, che promuove il raggiungimento dell'autonomia economica da parte delle donne che è ritenuta la prima e fondamentale condizione per poi esercitare un effettivo diritto di parità. Abbiamo portato questa carta in consiglio il 22 di novembre appunto è stata approvata all'unanimità come giustamente diceva ed è stata collegata in un certo modo anche al discorso sulla violenza alle donne in vicinanza appunto del 25 novembre. Infatti collegato a questo ci sarà il posizionamento della panchina rossa contro la violenza all'interno del comune di Ardenno. Che impegno comporta al comune nelle proprie azioni quotidiane di promozione sociale l'avere aderito e avere sottoscritto questa carta? Diciamo che è un impegno che non è puramente, non è solamente d'immagine o certamente non resterà sulla carta. Anzitutto noi chiediamo e chiederemo ai nostri colleghi, quasi tutti uomini devo dire, di aderire a questa carta. Svilupperemo e favoriremo tutte le politiche a favore di una effettiva equiparazione di diritti tra i generi, tra uomo e donna, cosa che del resto ad Ardenno già in qualche modo, voglio dirlo con un certo orgoglio, si fa, tant'è vero che ad Ardenno c'è uno dei pochi sindaci donne, sopersiti in tutta la Valtellina. Io l'ho chiamata sindaco o sindaca a seconda dei casi ma qui non è questione di formalismi, è questione insomma di sostanza delle cose da fare. Ecco, la realtà nei nostri comuni, nel nostro territorio, sconta anch'essa seppure in forma magari meno eclatante questo problema che non approda magari ai fatti più clamorosi della violenza o ci arriva solo in casi sporadici come il recente caso di cronaca di cui ci siamo occupati anche oggi, c'è comunque da lavorare ancora sul fronte della violenza sulle donne? C'è sicuramente da lavorare sul fronte della violenza sulle donne perché registriamo certamente i casi che registriamo sono a livello nazionale, purtroppo però come dicevamo anche a livello locale e i casi che registriamo sono evidentemente solo la punta dell'iceberg. Si va a parlare della violenza sulle donne quando si finisce sui giornali e si finisce sui giornali in maniera molto molto cruenta. Purtroppo questa realtà noi abbiamo modo di toccarla e di vederla anche marginalmente con i nostri servizi sociali ed esiste ed esiste come. E quindi parlare del diritto della donna a non essere maltrattata, del diritto ad avere una tranquillità in famiglia non è assolutamente tempo perso. È una lotta di opinioni, proprio di sensibilizzazione che dobbiamo fare e penso che il Comune sia il primo baluardo per svolgere questa azione. Ha parlato prima di autonomia economica che è un prerequisito importante anche di piena emancipazione e consapevolezza. Ha sottolineato giustamente che i sindaci donna non sono molti quindi la presenza delle donne nei ruoli decisionali dell'amministrazione come del mondo dell'economia non è ancora adeguata. Non è ancora adeguata perché se pensiamo che le donne costituiscono il 50% anzi qualche cosa di più della popolazione e poi ragioniamo ad esempio sul mandamento di Morbegno su 25 sindaci solo tre sono donne è evidente che c'è qualche cosa che non va. Non si tratta di difendere quota e rosa o di riservare posti. Noi posti ce li dobbiamo conquistare alle stesse condizioni degli uomini però il fatto che siamo solo in tre vuol dire che qualche ostacolo in più lo troviamo è in dubbio. La famiglia c'è qualcosa che le donne devono rimproverarsi per avere magari troppo a lungo accettato una condizione marginale a partire dal contesto familiare? Ma si torna un po' al discorso secondo me dell'autonomia economica ed è la prima cosa. La donna che non ha autonomia economica fa fatica anche a ribellarsi ad uscire da certe situazioni. Certamente poi non dobbiamo negare che la famiglia per la donna ha un'importanza fondamentale più di quella che essa può avere per un uomo. Le donne continueranno a essere loro e io aggiungo grazie al cielo perché è un gran beneficio a fare i figli ad esempio e a doverli accudire e a doverli allattare. Quindi la famiglia certamente ha un peso. Anche in questo la politica dovrebbe avere riconoscimento. Caso adesso eclatante che è successo della signora licenziata dall'IKEA perché doveva accudire i figli e non poteva combinare questi due impegni è sintomatico, è emblematico. Siamo nel 2017, insomma dovremmo trovare il modo di occuparci anche di questi argomenti.